Salve a tutti ragazzi sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale siamo ritornati qui con il secondo episodio della nuovissima carriera allenatore con il nostro Newcastle ragazzi se vi siete persi l'episodio precedente ve lo lascerò qui in descrizione e qui a schermo abbiamo impostato la nostra carriera ragazzi arriviamo arrivati praticamente all'inizio, avevamo fatto le prime partite del torneo internazionale vi lascio qui le immagini della partite contro lo Schalke che abbiamo vinto 2-0 grande prestazione di Musa Sissoko ragazzi e adesso abbiamo due giorni prima delle semifinali contro la Roma abbiamo già acquistato un grandissimo giovane Matt Miasga centrale di difesa molto ma molto promettente faccio prima ragazzi delle premesse vi ringrazio tantissimo per i miliardi di commenti che mi avete lasciato tantissimi consigli per il calcio mercato ho apprezzato tantissimo ragazzi ho messo mi piace a tutti i vostri commenti ed alcuni ho anche risposto veramente grazie avete lasciato tantissimi commenti mi avete fatto molto felice mi avete dato anche delle bellissime idee vi annuncio ragazzi che settimana prossima inizierà anche la carriera giocatore quindi martedì alle 6 martedì prossimo alle 6 non perdetevi il primo episodio della carriera giocatore ne approfitto ragazzi per salutare la pagina facebook calcio mercato official vi lascerò il link in descrizione mi raccomando ragazzi è una pagina instagram sul calcio davvero davvero molto interessante e molto divertente vi consiglio assolutamente di andarla a seguire link in descrizione li saluto ragazzi ciao a tutti mi raccomando ragazzi andate a seguire andate a seguire questa pagina instagram davvero davvero molto divertente che sta per raggiungere i 40.000 seguaci una grandissima soddisfazione anche per loro ok ragazzi possiamo continuare vediamo un attimo gli uffici avevamo fatto avevamo avuto delle offerte di mercato per anita e shelvey quelle per anita avevamo fatto una contro offerta per shelvey l'aveva rifiutata e poi avevamo un paio di offerte a metà come ben yeder correa quella di vende l'avevamo accettata quindi dovevamo fargli solamente il contratto in tantissimi vi avete detto che wainaldum secondo voi centro campista centrale o difensivo è sprecato e ci può stare perché wainaldum è una bestia quindi wainaldum per il momento c o c ma comunque wainaldum può fare il jolly wainaldum può fare tutto quanto esterno c o c e c c quindi senza problemi farà qualunque cosa ho spostato mitrovic un po più a sinistra e il c o c in grado di restare a centro campo e di inserirsi anche come secondo attaccante questo secondo me può essere una buona una buona cosa se no mi avete consigliato anche di provare il 4 4 2 a rombo e io probabilmente lo proverò nel secondo tempo contro la roma allora abbiamo ricevuto delle offerte per de jong da parte del sassuolo 5 milioni e cinquecento sono un po pochi in realtà è solo un po pochi proviamo 6 milioni e 8 per papis denbassi se aspettiamo un attimo facciamo un'offerta un attimo alta perché lo sto utilizzando come pedian di scambio in attacco allora il il feynord ha accettato un'offerta per vilena per vilena per vilena per vilena allora vuole 45 milioni lo portiamo avanti ma ne porterò avanti anche un altro ragazzi di centrocampista nel frattempo abbiamo venduto rivier per un milione e novecento purtroppo di più non riusciamo a farci ragazzi e rivier non rientrava nei miei piani l'ho provato due volte ma non mi piaceva assolutamente e questo dovrebbe essere il secondo acquisto della nostra carriera natore attenzione ragazzi perché qualcuno ha frainteso il mercato che voglio fare con le new castle nello scorso episodio vi ho fatto vedere tantissimi giovani ma non ci saranno ovviamente solo quelli adesso proverò ad andare ad acquistare anche giocatori molto ma molto più esperti perché come ho già detto ci vuole un giusto mix giovanissimi e già pronti quindi ragazzi Abdelak Nuri, Adarabioio e anche Matteus Pereira sono acquistati per utilizzarli di meno rispetto ad altri giocatori un po' più esperti per farli crescere con calma e per farli diventare appunto un futuro futuro prima squadra quindi questi giocatori diciamo prima che il prezzo salga alle stelle ce li acquistiamo noi così poi magari potremmo anche rivenderli nel caso non ci piacciano a molto di più allora vi faccio vedere la mia lista preferiti perché ho inserito tutti buona parte dei giocatori che mi avete consigliato allora i prezzi, i portieri adesso io aspetterei sinceramente ragazzi mi avete consigliato tantissimi centrocampisti centrali tra Alli, Cantetto, Lissot, Cataldi però ragazzi ho guardato un attimo anche Goresca Buzzer è il più giovane ed è il più promettente quindi ho fatto un'offertina anche per Buzzer un altro problema che mi si era posto ragazzi era quello del COC e del secondo attaccante perché abbiamo Angel Correa ragazzi abbiamo Angel Correa che può fare una miriade di ruoli può fare una miriade di ruoli e sarebbe un ottimo giolli sia da mettere come COC sia da mettere come attaccante come secondo attaccante nel caso giocassimo con due punte e secondo me Correa va assolutamente preso facciamo un'offerta di 10 milioni più Colocini così a caso e poi ho fatto anche un paio di offerte ragazzi adesso le porteremo avanti per due attaccanti esperti perché abbiamo bisogno di due attaccanti esperti uno è Jamie Vardy 28 anni e l'altro è Kevin Gamayro secondo me ottimi davvero ottime punte potrebbero essere davvero davvero un grande acquisto perché comprerò uno dei due e poi sono sempre in difficoltà comunque sull'esterno destro che magari ci sono molti giocatori forti mi avete consigliato in tantissimi Gabriel Jesus ragazzi oltre a Ben Yedder anche Gabriel Jesus però Gabriel Jesus è molto giovane e ci abbiamo già i giocatori giovani quindi faremo un po' fatica comunque proseguiamo ok questo è un altro ragazzo che andiamo ad acquistare 500 mila euro a Tosina d'Arabioio grande acquisto secondo me per il futuro ci siamo leggermente tutelati per il futuro ragazzi per il momento utilizziamo la formazione che volevo usare io quindi con Wijnaldum e Mitrovic qua mettiamo Townsend a destra Arons a sinistra ed eccoci qui nella semifinale della Coppa Internazionale Europea incredibile ragazzi contro la Roma speriamo di fare un'ottima prestazione come le ultime due partite in questo campionato perché i miei giocatori mi sono piaciuti tantissimo ragazzi quindi sempre sul pezzo e go Magpis attenzione al tiro di Salah se non sbaglio e qua abbiamo sbagliato l'uscita in difesa ma come faccia a sembrare mi Salah scusami si è Venker qui gran numero di Venker su Miasga purtroppo non lo chiudiamo bene e poi la piazza dove non può arrivare Krul siamo in svantaggio purtroppo può andare Arons sulla sinistra rientra Arons 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 il tiro di Arons Shesnik è parata Arons fortissimo ragazzi fortissimo eccolo qua no 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 credevo fosse il gol di Miasga attenzione però la palla è ancora lì tiro te palla per Nuri Nuri il tiro di Nuri rimpallato mica raga siamo sfigatissimi però cioè non non si può dire niente a questa squadra oggi e finisce qua ragazzi 1-0 per la Roma purtroppo non andiamo in finale perdiamo però secondo me meritavamo almeno il pareggio anzi senza almeno allora ragazzi finalmente abbiamo un terzino sinistro abbiamo preso Wendel finalmente abbiamo un terzino sinistro ma in realtà anche 3 milioni e mezzo per Matteus Pereira non sono per niente male però aspettiamo un secondino aspettiamo un secondino e in più volevo provare a fare un'offerta per Gameiro sono interessati a Sisse ma si aspettano qualcosina di più quindi 10 milioni più Sisse potrebbe andar bene anche perché noi dobbiamo acquistare almeno anche non dico un COC ma un altro attaccante giovane ok poi hanno acquistato se non sbaglio mi hanno acquistato il Watford ha acquistato Anita ok 3 milioni e 500 callback 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 ci chiedono callback dato che non rientra nei nostri piani perché preferisco Saive ci offrono 5 milioni e 600 non sarebbero male questi 6 milioni per quanto riguarda l'attaccante esperto ragazzi scegliete Travardi e Gamero allora per Buzzer ci chiedono 12 milioni sono 12 milioni sono sincero iniziano ad essere proviamo a tamponarla con callback quindi callback più 6 milioni 12 milioni per Buzzer sono abbastanza abbastanza tanti devo dire ok Gabriel Jesus è stato acquistato da un'altra squadra e ci hanno offerto 10 milioni per Papis de Embassisse ragazzi 10 milioni per Papis de Embassisse sono tantissimi proviamo 11 e per 11 milioni via Papis de Embassisse ah non ci credo l'Atletico Madrid ha accettato 10 milioni più Colocini per Correa cioè sono sono scioccato sono scioccato potremmo prendere Correa per 10 milioni e sarebbe sarebbero pochi in più giocatori per il turnover da me sarebbe non dico titolare ma quasi io metto giocatori per il turnover così non mi scassa la minchia mentre Gerson Martins mentre hanno accettato Gerson Martins e questo sarebbe ottimo hanno accettato Papis de Embassisse più 2 milioni per Jamie Vardy attenzione però attenzione però perché perché se mi se vendo Papis de Embassisse a 11 milioni poi Vardy me lo posso andare ad acquistare tranquillamente quindi per il momento facciamo l'offerta a Jamie Vardy prefererei Gamero sinceramente a Vardy il Sassuolo ha acquistato CM De Jong e mi sembra che era nell'offerta per Gerson Martins però adesso portiamo avanti anche Gamero che mi chiede 120 non è tanto in realtà 28 anni 79 molto forte Gamero ragazzi abbiamo abbiamo l'esterno destro abbiamo un nuovo esterno destro Gerson Martins 20 anni 76 acquisto secondo me incredibile secondo me incredibile aspettiamo il buon Matteus Pereira e Vilena purtroppo ormai è andato allora Landerlecht sono interessati a Guffran se non sbaglio ma si aspettano molto di più quindi proviamo 9 milioni più Guffran per Praet anzi 8 milioni più Guffran anche perché non credo che dopo avremo i soldi però altro acquistone Angel Correa ragazzi questo è un acquisto incredibile questo è un acquisto incredibile ragazzi questo è un acquisto incredibile veramente stiamo facendo un mercato secondo me giustissimo ci manca solo l'attaccante di esperienza e un centrocampista giovane perché a centrocampo in realtà quelli con l'esperienza ce l'abbiamo già perché abbiamo T.O.T abbiamo Shelby che comunque è il capitano se è stato scelto come capitano ci sarà un motivo abbiamo Saivet abbiamo anche Musa Sisoko che secondo me è ottimo allora offerta per T.O.T ma assolutamente no per T.O.T voglio almeno 15 milioni e poi ho visto che ha accettato sia Jamie Vardy che sarebbero 2 milioni più Papis D'Emba Sisse 28 anni 78 e Kevin Kevin Gamero che costerebbe 10 milioni più Papis D'Emba Sisse ragazzi sotto nei commenti consigliatemi o Jamie Vardy o Kevin Gamero loro sono i due attaccanti diciamo esperti che voglio portare nella mia rosa Miasga sale di già ragazzi è già un 73 un altro terzino destro che mi avete consigliato che adesso devo andarlo a cercare è Yedlin del Sunderland se non sbaglio esatto Deandre Yedlin 22 anni non ho la più è in prestito alla squadra Sunderland perfetto Yedlin non si può fare come tanti altri ragazzi perché per esempio Mastur non si può comprare perché è in prestito Benarfano lo posso comprare perché in realtà l'ho venduto io cioè il Newcastle l'ha venduto quindi non posso andarlo assolutamente a ricomprare offerta per il trasferimento di Oberton dal Nottingham Forest ragazzi per favore datemi datemi almeno un milione e due perché se ve lo vendo poi non mi danno neanche tutti i soldi T.O.T. 7 milioni e no mi dispiace mi dispiace T.O.T. resta con noi T.O.T. Anderlecht accetta 8 milioni più Goofran un esterno sinistro incredibile sarebbe Praet Praet sarebbe davvero davvero qualcosa di di ottimo sarebbe veramente qualcosa di ottimo 7 milioni per callback 7 milioni e 8 fratello mio stiamo facendo un ottimo mercato ragazzi davvero un ottimo mercato allora Chambers vuole avere un ruolo migliore in squadra mi stanno spaccando un po' troppo la minchia con sti ruoli giocatore per il turnover fatevelo andare bene puttana miseria vabbè Nottingham Forest dice che è troppo per Oberton ma Oberton lo accettiamo vendiamo anche Oberton ragazzi che 69 26 anni era veramente qualcosa di inguardabile veramente inguardabile stanno arrivando molte email infortuni all'allenamento 6 settimane di stop puttana troia perché non l'ho venduto allora questo è il settore giovanile per il momento generale questi sono 29 di generale ragazzo mio no sei una pipa clamorosa gli altri continuiamo a seguirli callback purtroppo si è infortunato 6 settimane di stop per callback però Praet ha accettato l'offerta ragazzi Dennis Praet è un nuovo giocatore del Newcastle clamoroso clamoroso ragazzi ok hanno accettato 6.800.000 per callback ragazzi li hanno accettati forse ci entrano anche i soldi per Gamero ragazzi ci rientrano i soldi anche per Gamero probabilmente andiamo a fare gli allenamenti perché io preferivo Gamero a Vardi ma sia Mitrovic che Perez che sono saliti così Perez e Mitrovic sono saliti ragazzi i primi giocatori a salire dopo Shelby e Miyazga io sono ritornato da Gamero perché preferisco Gamero allora lasciamo perdere la fantastica stagione che sta facendo Jamie Vardy ragazzi però in realtà io un giocatore così ce l'ho già anche se più giovane ovviamente che è Angel Correa in realtà perché Jamie Vardy può fare anzi l'anno scorso faceva anche l'esterno sinistro e stava anche dietro le punte e Angel Correa è un giocatore che ci assomiglia molto mentre Kevin Gamero è un giocatore che assomiglia molto di più a Mitrovic di cui prenderebbe il posto di cui si alternerebbero quindi Gamero secondo me è molto molto meglio e gli ho da fare l'offerta assolutamente giocatore chiave prima squadra signori riandiamo a vedere un attimo il mercato che abbiamo fatto in questo episodio perché abbiamo fatto qualcosa di incredibile sembra che abbiamo comprato un sacco di gente ma è gente ragazzi perfetta e precisa per quello che ci serviva perché ci serviva un sostituto di Townsend a destra ed abbiamo preso Shelson Martins abbiamo preso un attaccante ovvero Correa che può fare qualunque cosa un tutto fare Nuri è uno di quei giocatori che può fare il jolly ma che non giocherà praticamente tutte le partite è un giovane come Tosina da Rabioio che ho preso per far crescere con calma Praet lo proviamo al posto di Arons non vi preoccupate che Arons probabilmente sarà comunque il titolare perché ha 19 anni ha 71 e ha bisogno di crescere guardate la nostra formazione ragazzi praticamente abbiamo fatto tanti acquisti ma guardate l'11 titolare cambia solamente Praet Wendel e Miasga tre giocatori solamente cambiano nella formazione titolare del nostro Newcastle mentre in panchina invece abbiamo Perez l'attaccante Jelson Martins Arons Correa e ci mettiamo anche il buon Sissoko al posto di Syvette quindi abbiamo una formazione una formazione che resta quella titolare in panchina abbiamo comunque molta gente della squadra della vecchia squadra ecco avevo visto un'offerta per Sissoko se non sbaglio eccola qua offerta per Musa Sissoko 10-12 milioni vale 10 milioni 500 dal Southampton io la rischio ragazzi 18 milioni per Sissoko secondo me ci possono stare Sissoko è un ottimo jolly ragazzi veramente veramente un ottimo jolly comunque ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto come vi ho già spiegato gli acquisti sono stati mirati e non per stravolgere la squadra la squadra titolare è praticamente questa e ci sarà e inserirò comunque tanti giocatori dato che il campionato della Premier dato che l'anno nella Premier League è piena di gare veramente anche ogni due giorni ci sono gare spero che questo episodio vi sia piaciuto ragazzi oggi mi ha fatto un mercato grandissimo lasciate un mi piace un commento un consiglio ragazzi noi ci vediamo domenica mattina alle 10 e mezza con il primo match di Premier League speriamo bene un saluto da mezza noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti